File Manager per Windows 10 e Windows 11, uno strumento imperdibile. Files, un file manager gratuito per Windows 10 e Windows 11 che può diventare un valido sostituto per Esplora File. Ecco cosa consente di fare. Windows 11, Windows 10 e le precedenti versioni del sistema operativo Microsoft propongono Esplora File, una volta chiamato Esplora. Risorse, come strumento utilizzabile per gestire i file e le cartelle su qualunque unità di memorizzazione dati, interna o esterna. Una nuova finestra di Esplora File si può aprire velocemente premendo Windows più E. In un altro articolo abbiamo presentato una guida a Esplora File con i dettagli meno conosciuti sul suo funzionamento. Con Windows 11 il layout complessivo di Esplora File è stato largamente modificato per lasciare il posto a un file manager più moderno, che comunque può spiazzare molti utenti abituati a uno degli strumenti storici del sistema operativo Microsoft. Un file manager intelligente per Windows 10, Files, cos'è e come funziona? Scaricabile dal Microsoft Store cliccando qui, Files è un'applicazione per Windows 10 e Windows 11 che reinventa Esplora File introducendo alcune caratteristiche di sicuro interesse, soprattutto in termini di funzionalità e usabilità. Sebbene non si tratti di uno strumento ufficiale, il file manager Files per Windows introduce diversi benefici. Innanzitutto si tratta di un'applicazione che non ambisce a sostituire del tutto Esplora File. Per installarla basta premere il pulsante Ottieni e per averla sempre a portata di clic basta cliccare sulla sua icona nella barra delle applicazioni con il tasto destro del mouse Se scegliere aggiungi alla barra delle applicazioni, così facendo si può avviare il file manager Files quando serve davvero senza modificare in profondità la configurazione di Windows. Contradistinta da un'interfaccia moderna, in linea con il fluent design di Windows 10 e con l'effetto mica di Windows 11, Files mostra le cartelle e le risorse più utilizzate nella schermata principale. Premendo CTRL più T si possono aprire più schede nell'interfaccia di Files così da mantenere contemporaneamente aperte più cartelle. Con CTRL più N si apre una nuova finestra del file manager. Cliccando sull'icona Impostazioni, ingranaggio in alto a destra, quindi sull'icona Multitasking si può abilitare la struttura a pannelli. Opzione abilita modalità V più pannello. Con un clic su una scheda si può duplicarla oppure trasformarla in una finestra a sé stante. Cliccando sui puntini, a destra dell'icona raffigurante una piccola lente di ingrandimento si avrà a disposizione la voce Nuovo pannello. Utilizzandola si potranno affiancare nella stessa finestra due cartelle e, ad esempio, copiare e spostare file comodamente dall'una all'altra. Cliccando con il tasto destro del mouse su Cartelle e File si possono creare nuovi elementi. Aprire una finestra del prompt dei comandi. Di PowerShell o di Windows termina la seconda dell'impostazione Applicazioni Terminale nella sezione Preferenze. Agendo sempre sulle impostazioni si può configurare files in maniera tale che l'applicazione, una volta riaperta, riproponga le cartelle. Visualizzate in precedenza all'avvio, riprendi da dove eri rimasto. Mostri file e cartelle nascosti opzioni esplorazione. Mostra file e cartelle nascosti. Permetta la ricerca anche dei contenuti non indicizzati da Windows e molto altro ancora. Certamente una buona idea è esplorare le tante impostazioni che files mette a disposizione. Ci si accorgerà immediatamente di come il file manager possa diventare uno dei compagni più fidati per la gestione di file e cartelle superando le mancanze di EsploraFile. Files permette anche di utilizzare, scaricandoli o creandoli in proprio, temi personalizzati che permettono di migliorare ulteriormente l'esperienza d'uso. Per impostazione predefinita l'interfaccia di files si adatta al tema di Windows Impostazioni, Grafica. Files supporta ovviamente sia i percorsi di rete e quindi permette di accedere facilmente a tutte le cartelle e le risorse condivise in LAN. L'applicazione consente però anche di accedere a server FTP con la possibilità di trasferire file e cartelle verso tali locazioni. Da rimarcare che questo file manager per Windows 10 e Windows 11 è un prodotto open source il cui sorgente è consultabile su GitHub.